Disordini ieri sera nel carcere romano di Regina Celi. Alcuni detenuti dell'ottava sezione si sono rifiutati di tornare in cella e per protesta hanno dato fuoco alcuni materassi. Dopo qualche ora la protesta è rientrata senza feriti, ma lasciando danni ingenti alla struttura. Sarebbero state fatte esplodere alcune bombolette dei fornelli da campeggio comunemente in uso per cucinare, ha spiegato Gennarino De Fazio, segretario generale della UIPA Polizia Penitenziaria, che mette in evidenza anche come con 1170 detenuti a fronte di 626 posti disponibili e il 184 per cento di surplus di detenuti, Regina Celi sia uno dei penitenziari più sovraffollati del paese, a cui fa da contraltare una voragine negli organici del corpo di Polizia Penitenziaria con 350 agenti in servizio quando ne servirebbero 709. Basti pensare che di sera gli agenti impiegati sono normalmente meno di 20 in totale. D'altronde a livello nazionale sono 15.000 reclusi oltre i posti disponibili e 18.000 le unità mancanti alla Polizia Penitenziaria. A questo si aggiungano strutture faticenti, dotazioni inadeguate, carenza nell'assistenza sanitaria e psichiatrica e approssimazione organizzativa e il quadro che ne emerge è davvero desolante. A pagarne le spese ristretti operatori con questi ultimi esposti a aggressioni continue e sottoposti a turnazioni massacranti, con la compressione dei più elementari diritti anche di rango costituzionale.